Buonasera a tutti siamo con il migliore in campo Michael Guglielmino della squadra GM Supermercati Buonasera Buonasera a voi Partita che si conclude con un risultato di tre pari, un pareggio Cosa ne pensi del risultato raggiunto oggi? Dai ci sta, ci sta anche per la qualità dell'avversario perché erano otto o nove Non so quanti erano ma erano uno più veloci dell'altro Prestavano in continuazione, ci hanno chiuso in difesa Stanno vincendo 3 a 1 se non mi sbaglio, hanno giocato benissimo Abbiamo visto infatti fino alla partita è stata decisa, il risultato deciso quasi alla fine del secondo tempo Al quarantottesimo minuto pareggiato una partita che sembrava vinta da parte della squadra avversaria Però è stata una partita abbastanza equilibrata in cui entrambe le squadre avete dato il massimo Quindi complimenti a entrambi Sì sì sì, tanto merito però dell'avversario ripeto Noi ci abbiamo messo del nostro con le qualità che avevamo in campo Soprattutto se mi posso permettere del migliore in campo, ci ho divenuto Nuovo acquisto e ho fatto un grandissimo gol Sì ma quello che vedo da parte vostra infatti è un bel gioco di squadra E sicuramente questo vi avvantaggia in campo Eravamo stanchi per oggi Sono responsabile anche io della loro stanchezza Oggi ho due persone che lavorano con me e sono stanchi morti Infatti si vede che eravamo un po' fiacchiati al centro campo Ma non per merito loro, erano un po' stanchi dal lavoro Nonostante la stanchezza comunque avete dato il massimo Quindi è un ottimo risultato Cosa ne pensi invece di questo torneo? Come ti trovi? Mi trovo bene grazie anche a Ciccio Che è un ottimo organizzatore Sa far rispettare le regole E fa andare avanti tutto per come è giusto che vada Ricordiamo inoltre lo sponsor ufficiale GM Supermercati Non ce lo dimentichiamo Alla fine di questa intervista ti verrà dato il buono offerto dalla 100% Fitness per te Che sei il migliore in campo Io ti ringrazio ancora per la tua gentilezza e disponibilità E' tutto dal torneo Match Talent Buonasera 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 Buonasera